In serie D, altra domenica nera per Manfredonia e Sansevero, entrambe pesantemente sconfitte. I bianco celesti piegati dal Nardò per 3-1, i giallo Granata puniti dal Picerno 1-0. Due sconfitte pesanti per le due compagini, Down e nuovamente risucchiate in zona retrocessione, dove c'è anche la Priscena, che ha pareggiato 2-2 in casa con il Potenza, grazie a due reti dell'ex attaccante del Manfredonia Beppe Bozzi. La ventottesima giornata è stata amara anche per la capolista Trastevere, che in attesa del recupero di mercoledì con il Bisceglie, si è arresa sul campo del Rionero, dove è stata surclassata per 2-0 dalla squadra lucana. Nell'anticipo di sabato, il Bisceglie si è imposto di misura sul Francavilla Insigni ed ora è a soli 5 punti dalla capolista, che affronterà mercoledì pomeriggio. Frena ancora la Nocerina, che non va oltre l'1-1 in casa con il Gravina.